Si è svolta all'Aulamagna della Facoltà di Architettura di Palermo un incontro sulle IST, infezioni sessualmente trasmesse. Papillomavirus, epatite e clamidia sono tra le più diffuse. I dati raccolti parlano chiaro, un terzo dei casi riguarda i giovani sotto i 25 anni. Tra i principali fattori invece è l'inizio precoce di rapporti sessuali, l'aumento della mobilità mondiale e la disinformazione unita alla poca prevenzione diffusa tra gli adolescenti. La prevalenza delle infezioni colpisce infatti i giovani al di sotto dei 20 anni e soprattutto le donne e solo una parte dei casi viene riconosciuta perché i sintomi non sempre sono presenti. L'incontro è stato preceduto dal professore Marcello Mezzatesta, coordinatore dell'Ambulatorio Medico Universitario, insieme al professore Francesco Vitale, ordinario di zona in medicina preventiva. Ospite è anche il professore Antonio Perino di ginecologia ed ostetricia. A contribuire alla giornata dell'organizzazione i membri del SISM, il segretariato che a livello nazionale raggruppa gli studenti di medicina di tutto il paese. L'incaricato Andrea Costumati ha parlato di un'opera divulgativa di un percorso di informazione che insieme hanno portato alla realizzazione di un ambulatorio medico universitario gratuito. In tutto sono 39 in Italia i centri di sorveglianza delle infezioni sessualmente trasmesse, che in tutto il mondo oggi contano 448 milioni di persone colpite.